E what's up a tutti ciurme e benvenuti ragio carina in questo nuovissimo episodio su doki doki schizofrenia Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie possa proseguire Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 60 like So che ce la possiamo fare ragazzi, grazie come sempre a tutti per il supporto Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa, insomma questa mod ragazzi ci ha posto di fronte Ha delle frasi davvero non molto carine che riguardano come sempre, come sapete comunque il delicato argomento del suicidio purtroppo E tutti voi sapete comunque che effetto questa cosa fa la sottoscritta Quindi non è davvero mai facile riuscire a leggere comunque a sostenere queste cose Per quanto si tratti comunque sempre ragazzi di una semplice mod, di un gioco Ma questi argomenti per me sono davvero molto 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 delicati E penso che dovrebbero esserlo un pochettino per tutti comunque Quindi per quanto si tratti comunque di un gioco, di una mod Fa comunque sempre un certo effetto leggere certe cose E quindi eccoci qua di ritorno La volta scorsa ci eravamo lasciati esattamente qui Il nostro protagonista, quindi sarebbe a dire noi Abbiamo deciso di andare a fare un salto in biblioteca Perché Natsuki che comunque si sta prendendo cura di noi In questo periodo da quando siamo usciti dall'ospedale È chiaramente dovuta andare a scuola perché insomma è stata assente fin troppo tempo E quindi noi non sapendo cosa cacchio fare Abbiamo deciso così, de botto, de punto in bianco Di andare in biblioteca Per cui eccoci qua Come sempre ragazzi io vi chiedo scusa se a volte la traduzione non è completamente esatta O attendibile ma davvero ve lo ripeto in ogni episodio Purtroppo questa traduzione in spagnolo è stata fatta letteralmente col culo Per cui come sempre cercherò di fare del mio meglio Finalmente sono arrivato E cominciamo con sta musica che ogni volta mi fa venire in ansia È un'angoscia porca miseria manco due minuti Le colonne di libri sono davvero immense Non so sceglierne uno Mentre cammino mi dirigo verso un luogo un po' inospitale Perché inospitale? Vabbè La sezione dei libri dedicati al mistero e alla suspense Continuo a passeggiare cercando un libro che attiri la mia attenzione Però nessuno ci riesce Mentre sono distratto alla fine Cado Cioè nel senso Inciampo Ecco questo è il termine più corretto Però non mi son fatto niente per fortuna Oh stai bene ragazzo? Sì mi scusi non ci ho fatto caso Nel senso cioè sono inciampato Oh non preoccupare Ehi ma tu sei quello dell'ospedale? Era l'infermiera ragazzi Quella che ci aveva puzzato un po' de merda Perché aveva detto una frase che ci aveva lasciati un po' perplessi Ah quindi ho sbattuto alla stessa infermiera Alla quale avevo sbattuto ieri Ma si può essere più stupidi? Da oh guarda un po' Ti ho riconosciuto da le tue fasce, le tue bende Spero che tu stia bene Sì sì stavo soltanto guardando i libri E non stavo guardando avanti, avanti a me Non preoccuparti a proposito Ma perché sei fuori dall'ospedale Sapendo insomma in che condizioni sei? Oh avevo solo bisogno di ristrarmi con qualcosa Quello che succede è che Non preoccuparti Conosco tutta la tua storia What? Come fai a conoscerla? Questa me sa che è peggio da Monica raga Davvero non ricordo di averle Non preoccuparti So molto più di quello che credi A volte ti osservavo Durante la mattina Dormivi e ti vigilavo Beh alla fin fine comunque Se sei in questa sezione di libri Vuol dire che ti piacciono davvero tanto Beh oddio In effetti ho appena iniziato ad avvicinarmi alla letteratura Solo volevo distrarmi un pochettino qui Ma non so quale scegliere Oh se mi permetti so qual è quello perfetto per te L'infermiera toglie un libro dalla sua borsa È un libro che leggo sin da quando sono adolescente Non mi stanco mai di leggerlo Dai coraggio Portatelo e leggitelo Quando lo finisci puoi lasciarlo qui nella biblioteca Non ti preoccupare di altro Guardando la copertina vedo che Insomma c'è scritto Excalibur Non c'è scritto il nome dell'autore o della casa editrice Beh sembra molto interessante Ma di che parla? Leggile lo saprai Sin trampas non so se ragazzi è tipo un modo di dire Però trampas vuol dire trappola Quindi non so in questo caso cosa possa voler dire Ma comunque forse non c'è niente di nascosto È comunque molto corto È lungo appena 30 pagine Ma sono davvero incredibili Oh mi sa proprio che devo andare Goriti il libro e ricorda Leggilo con attenzione Dopo aver detto le ultime parole L'infermiera se ne va Le sue parole sono state fredde e penetranti Ho sentito la stessa presenza Che ho sentito ieri quando sono sceso dal taxi In ogni modo Io il libro e un po' di cibo Spazzatura comprato Mentre ero in giro Torniamo a casa E non vedo l'ora di vedere Natsuki Ok Quindi ancora non capisco sta sosta la biblioteca Cioè lui non era solito a quanto pare comunque frequentarlo come luogo Però vabbè Sti cazzi Sti infermiera ragazzi Continua a dire che Puzza Passo a fianco alla casa di Sayori Purtroppo ragazzi come possiamo ben vedere C'è una scritta sul balcone Che dice la morte è inevitabile E non so cosa sia quella roba alla finestra sinceramente Vedo che la porta è aperta Aiuto 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 Io non ci voglio entrare lì eh Non voglio entrarci Cazzus Sulla parete C'è una scritta alquanto strana La morte è inevitabile Chi l'ha scritto? Spero che non sia quello che credo che è Se sono dei vandali Giuro che li ucciderò per questo Non me ne importa di niente È la casa di Sayori Devono rispettare la memoria della mia amica Afferro il cellulare per chiamare la polizia E mi accorgo che il clima, il tempo Sta diventando strano Vedo delle cose lì dentro Prendo il mio cellulare per chiamare la polizia Dovrei restare qui fuori Ma sento che qualcosa lì dentro Mi sta chiamando Ne ho detto che non ci voglio entrare Perché è già stato traumatico Entrare lì dentro una volta Mi è bastata e mi è avanzata Porca miseria Ma perché mi deve venire l'ansia L'idea che questo Sta ben pensando di entrarci Improvvisamente In cammino verso la casa No, dai No, no Non ci voglio entrare Non ci voglio entrare Non ci voglio entrare No, per favore Non dovrei Non voglio tornare lì Ma già son dentro Che salgo le scale No, vi prego No, vi prego No, vi prego No, 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 no C'è un odore Orribile Talmente schifoso Che sto per vomitare Che c'è? Sembra che questo odore Provenga da sopra C'è qualcosa che non va qui Ma perché cazzo Ci sei dovuto entrare? Ma ti sei ammattito Prendo coraggio Per salire fino Alla camera di Sayori Ma no Ma sti suoni Da dove li hanno presi? Lexa Non te ci mette pure tu C'è sangue sulle pareti No, no No, no 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 Oddio 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 no No, no, no No Perché sei entrato qua? Perché? 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 Sei tornato Mi hai lasciato appesa La notte scorsa Giocherina Tu non Non esisti Non puoi Sì, posso Sono più reale di chiunque altro Ed è ovvio Che un te così insignificante Non rappresenta niente dentro di me Che cazzo significa? Non lo so Non ha senso Come il pezzo di carne Andato a male che sei Senza alcuna rotta Giocherina Guardami Guardami Sì Sì Una paura fottuta Va bene Sì Hai paura? Passa del tempo con me Guarda chi c'è qui No, 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 no Oddio Di ciao No Non puoi Non sei reale Non esisti Impara a scegliere le tue parole Saiori mi piazza un coltello nel collo Io Zitto E muori Come può essere? Sento come poco a poco il sangue Scivola dal mio collo Lassù O cielo È stato un lungo percorso, non è così? Tranquillo Non preoccuparti Sono qui Spero tu sia pronto Vieni È qui Guarda il tramonto Non è bellissimo Non lo so Magari potesse essere eterno Può durare per sempre Forse era meglio Senti Mangiamo qualche dolcetto Prima che se ne vada il sole Oh Alla fragola Lo adoro Vieni qui Idiota A te tocca di limone Perché mi chiami idiota? Ma che sta succedendo qui? Sì Lo so Io Anche In che senso? Non dare di matto Ok? Già conosci la mia risposta Togliti quel sorriso stupido Continuiamo a guardare Senti dai Adesso sul serio Grazie per essere qui per me Probabilmente non sarei qui se non fosse per te Sei il mio eroe Cazzo sta succedere? Che cosa significa? Idiota Senti Dove finiremo? Dopo di questo Oh L'ho dimenticato Non ricordarmelo E' meglio soltanto stare qui ad apprezzare il paesaggio Fino all'eternità Sempre Sempre What the fuck? What the fuck? What the fuck? Sempre Suona così bene no? Sei così carino quando i tuoi sentimenti prendono il sopravvento Sei così facile da manipolare Dio ti ha perdonato Però il suo angelo caduto se l'è portato via Semplicemente non c'è Sayori Non più Lei non esiste più Ora Sono solo Morte Non è una cosa personale Sono soltanto Che cazzo vuol dire? Il tuo involtino di cannella Che significa? Il tuo stupendo raggio di luce Ora La tua massima perdizione Sayori Dove? Mi sveglio nella stanza di Sayori Non c'è nessuno Non c'è più il sangue Mamma mia La mia ferita nel collo A quanto pare era solo un'illusione creata dalla mia testa Sono qui Nello scenario di quello che è accaduto Regà comunque di male in peggio eh Cioè inizialmente le visioni di Sayori ce le aveva Ma comunque vedeva una Sayori Ancora normale Cioè Gentile Carina Adesso invece le visioni stanno diventando mostruose Paurose Terrificanti Ma perché? C'è un cappio lì La stanza ha un cattivo odore È tutto in disordine Non riesco a smettere di guardare il cappio Su di esso c'è del sangue secco Non ce la faccio E vomito in mezzo alla stanza No Non sono stato io Non volevo Lo giuro Le mie lacrime Cadono sulle mie bende Se solo Avessi fatto di più No Hai deciso di ignorarla Non riesci a fare qualcosa di buono Maledetto imbecille Imbecille Sei un imbecille Ti odio Un'altra volta raga Madonna santa Vedo delle forbici Sulla scrivania E le prendo senza pensarci Questo è solo un sogno Solo questo Ricorda quello che ti ha ordinato il medico Che cazzo vuol dire? Pure questo Boh Punto le forbici Verso i miei polsi Giusto dove sono le mie bende E' per te Sayuri Minchia Arrivata giusto in tempo Ehi Che diavolo stai facendo? Che pensi di fare? Natsuki arriva rapidamente E mi allontana le forbici dalle mani Che credi di fare? Oddio Immaginavo che fossi qui Andiamocene Qui non c'è niente da fare Mi porta fino a casa Con tutte le forze che ha Attraversando la porta Attraversando la porta Noto che quella frase Già non c'è più Sicuramente E' stato un prodotto Della mia immaginazione Un nuovo prodotto Della mia immaginazione Vieni Vieni Siediti Ti porterò dell'acqua Che facevi lì? Avevi idea di quello che stavi per fare? Non lo sopporto Natsuki Mi fa male Lo so Ma devi resistere Giocherina Natsuki Si siede vicino a me Non posso Non ce la faccio più Voglio solo morire Non ce la faccio a continuare così Era lì L'ho vista Stava soffrendo E Non voglio più stare qui Voglio solo stare insieme a lei Ascolta In questo genere di casi Non sono La migliore per dare dei consigli Chissà Forse Chiunque altro nel club Riuscirebbe meglio Ma la vita è complicata Quando Riesci a risolvere un problema Sempre ne appare un altro O quando vuoi aiutare altre persone Alla fine Finisci per Nuocere a te stesso Anche alcuni Pensano che la vita È solo una assoluta miseria Alcuni Definiscono codardi Quelli che se ne vanno Ma per me non è così Io li considero coraggiosi A volte ci sono delle persone Che non riescono A rialzarsi Nonostante tutto il supporto Che tu abbia potuto Dedicare loro Sì lo so In questo caso Non c'è Ritorno Non c'è Modo di tornare indietro Ma pensaci Condannerai quella persona A che Continui a soffrire Quello a cui mi riferisco è Non è colpa tua Che lei se ne sia andata Non era felice Ha sempre provato a farci sorridere Ma le costava tanto So che fa male Ma devi lasciarla andare Hai fatto tutto quello che hai potuto Nel poco tempo che avevi a disposizione E già questo è da ammirare L'unica cosa che puoi fare È portarla sempre con te È l'unico modo per onorarla Sono sicura Che è quello che lei avrebbe voluto Che dici? La onorerai? Hai ragione È solo che È dura Nessuno ha detto che sarebbe stato facile La vita non lo è Ma nonostante questo La vita è meravigliosa E bisogna viverla Riprenditi stupido O riceverai un pugno Sulla tua brutta faccia Grazie Natsuki Le parole di Natsuki Mi commuovono Mi fanno riflettere Su tutto quello che è successo E non riesco ad evitare Di abbracciarla In questo momento Mi sembra che sia a disagio Ma Nonostante questo Mi dà alcune pacche Con un Abbracciandomi insomma Alla fine D'accordo Che te ne pare Se ci guardiamo qualche film Per me va bene Oh Quasi lo dimentico Questo era sul pavimento Natsuki mi dà Excalibur Il libro Che mi ha dato L'infermiera Nella biblioteca Oh sì certo L'ho preso dalla biblioteca Andrò di sopra E Gli darò un'occhiata D'accordo Allora mi faccio una doccia Senza pensarci Corro Nella mia stanza Finalmente qui Dopo lo scenario Tetro Da Sayuri Mi metto a leggere un po' Non ancora mi sento bene Ma Da qualcosa Devo pur cominciare Perché Sayuri Si comportava così La mia mente Non riesce a smettere Di pensarci Chissà Magari è solo Il mio rimorso Forse sarà meglio Pensarla così Apro finalmente Le pagine Per Immergermi Completamente Nel fiume Di parole del libro Che Non capisco Sa Ba Eh Dando un'occhiata Alla storia Non riesco a capirla Esattamente Del tutto Tra l'altro Insomma Mancano delle pagine Al libro E Da quello che ho visto Comunque non sembra Un libro molto piacevole Che libro di merda Ehi Stupido La cena è pronta Oh sì Arrivo Quando Natsuki Mi chiama Con Insomma La sua voce Agitata Scendo alle scale Di sotto Posso sentire L'odore Del Insomma Del sugo Che profuma Di buono Wow Ha un odore Magnifico Lo so Ho fatto Ah Preparato Della lasagna Ottimo Ho preparato Della lasagna Per due Ho immaginato Che ti sarebbe piaciuta È uno scherzo Non vedo l'ora Di mangiarla In più Già Ho scelto L'anime Spero che ti piaccia Luci del cielo Che aspettiamo Mettiamoci a mangiare Ok Immaginavo che saremmo tornati da Monica Che terribile dolore di testa Mal di testa Magari Almeno Sono riuscita A tirare fuori qualcosa Da Natsuki Lui sta avendo di nuovo Delle allucinazioni Beh Natsuki Nonostante Sia Natsuki Riesce ad aiutarlo bene Non importa Alla fine Non interessa Non mi interessa Come andiamo Dimmi Errore D'accordo D'accordo Già capisco E in retrospettiva Che fai Perché Base di dati danneggiata È stata Individuata Una minaccia Non è possibile Non c'è nessun altro qui Cos'è Chi è Death Morte Sayori Tu non puoi stare qui Io ti ho cancellato Tu non sei reale Zitta Invece ci sono Che per caso Non mi vedi Vieni Avvicinati Non ti farò Male Non ci provare Nemmeno Cancellala Per favore Ah Ssss Nessuno Mi cancellerà Monica Mia cara Ah Sai cosa succede? Vedi quando premi una mano sul collo Così Per favore Non farlo Non volevo Oh così Che peccato Che peccato Io non sono più lei Inizialmente è stato difficile Ho dovuto torturarla Ho dovuto torturarla Se solo l'avessi vista Ti ho strappato dito per dito fino a quando è morta Se solo Avesse smesso di gridare Quella stupida Ora la sua vita Ora la sua vita Il suo corpo La sua anima Sono miei Per sempre La tua anche Mi appartiene A partire da adesso Ma non è ancora arrivato il momento No 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 Che fai qui? C'è qualcosa lì? No Sei stata qui tutto il tempo a giocare Ma guarda che regalino Sangue fresco Non ti Non ti permettere Portami a No Non loro Sempre vedendoti come la Eroina della situazione Non sei altro che una semplice ipocrita So quello che farò Tu Mi porterai a lui Ma per ora Ti terrò in un luogo speciale Dove? Dove sei? Che schifo Non riesco a credere che hai appena Finito di leccarmi Aspetta La mer vuol dire leccare Sì Non è stato un sogno Certo That's Sayori È qui Oddio no Sono in pericolo Coraggio Dammelo Anche questo Porterò con me il mio computer Destino Non mi abbandonare In marcia Ok Allora Adesso Abbiamo capito Chi si nasconde Dietro Le mancate azioni Di Monica Perché Monica Ci ricordiamo ragazzi Non riusciva ad eseguire più Alcune azioni Perché c'era qualcosa Qualcuno Che glielo impediva Quindi praticamente Io non penso che si tratti di Sayori È un qualcosa Che si è impadronito Come giustamente abbiamo appena letto Del corpo Della vita Della mente Di Sayori E quindi si sta servendo E quindi si sta servendo di lei Della sua immagine Comunque Per poter Mettere in atto Un piano Insomma Che già Ci ha pensato Praticamente Della stessa figura Sulla quale Lui ha avuto Un'allucinazione Un'allucinazione Io direi Assolutamente Terrificante E quindi Adesso Questo Death Sayori Quindi questa Sayori Morta Praticamente Morte Perché Death Effettivamente Morte Questa morte Diciamo così È riuscita Ad arrivare Fino a Monica E quindi A fare del male Anche a lei Praticamente E quindi Mi chiedo D'ora in avanti Cosa diavolo Succederà Perché fino ad ora C'è stata Monica Come burattinaio Ok Quindi A comunque Tenere sotto controllo La situazione A manipolarla Fondamentalmente Come più preferiva Quindi adesso Che non ci sarà più Monica Ma ci sarà Questa Death Sayori Io sinceramente Non oso pensare A cosa stiamo andando Incontro Ragazzi Ecco Sicuramente All'idea Un po' d'angoscia Mi entra Perché non vorrei Che d'ora in avanti Le cose Davvero Ad essere Estremamente Terrificanti Io Non lo so Ragazzi Vedremo Cosa succederà D'ora in avanti La prossima volta Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Di obdoscia A tutti ragazzi Da giocherina Ciao